Un cordialissimo saluto A tutte le persone in ascolto Benvenuti a questa nuova puntata Della nostra rubrica di approfondimento Della parola di Dio Della liturgia del giorno Oggi è sabato 16 settembre E la Chiesa fa memoria Dei santi martiri Cornelio e Cipriano Cornelio, Papa Cipriano, Vescovo Entrambi martiri Siamo nel terzo secolo Essi ci ricordano Tra i vari aspetti La vivacità della Chiesa Degli inizi dei primi secoli del Cristianesimo Una Chiesa Che appunto sapeva riconoscere La centralità Della fede in Cristo Ecco, tutti i discepoli cristiani Appunto erano così fortemente Legati Alla consapevolezza Della centralità di Cristo Nella loro vita Ebbene, Cornelio e Cipriano Come tutti i martiri Ci riportano anche Al caso serio Che è Gesù Cristo E anche oggi ci interpellano Dentro a questo tipo di scelta Vale a dire Che posto ha nella mia vita Il Cristo E' davvero il caso serio Ecco, in base al quale Faccio le scelte fondamentali Della mia vita Verrebbe da dire Che anche oggi Per certi versi Ci troviamo in un contesto Di Grande fede Anche se magari Nel nostro occidente Non è sempre così Però i martiri Sono numerosi Anche nel nostro tempo E quindi Questo dice Se vogliamo Da un lato L'aspetto negativo Certamente La forza negativa Che c'è contro Il cristianesimo Nel mondo oggi Ci sono paesi In cui non è possibile Testimoniare pubblicamente La propria fede Questo porterebbe Immediatamente O al carcere Se non addirittura Alla morte Quindi anche oggi Cristiani sono perseguitati Appunto In modo non molto diverso Dai tempi in cui Vissero Cornelio e Cipriano Ma dall'altro lato Se ci sono martiri Anche oggi Questo significa Che anche oggi C'è tanta fede Non molti giorni fa Abbiamo ricordato Precisamente Il 6 settembre Sor Maria De Coppi Questa nostra Condiocesana Comboniana Che è morta In Mozambico Uccisa durante Un attacco Da alcuni terroristi Ecco lei Ma tante altre figure Ci ricordano Da un lato La persecuzione Contro il cristianesimo Ma al tempo stesso Anche la fede Di tante persone Che anche oggi In modo così evidente Testimoniano Che Cristo Per loro È davvero Il caso serio Sul quale Giocare La propria vita Ecco Veniamo allora Alla parola di Dio Di oggi Ma prima Come sempre Invochiamo Lo Spirito Santo Dio della luce Manda su di noi Il tuo Spirito Santo Affinché attraverso L'ascolto delle scritture Riceviamo la tua parola Attraverso la meditazione Cresca in noi La conoscenza di te Attraverso la preghiera Contempliamo Il volto amato Di Gesù Cristo Tuo figlio Che vive e regna Con te Lo Spirito Santo Nei secoli Dei secoli Il Vangelo di oggi È il Vangelo Secondo Luca Capitolo sesto Versetti Da 43 A 49 In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Non vi è albero buono Che produca un frutto cattivo Ne vi è d'altronde Albero cattivo Che produca un frutto buono Ogni albero infatti Si riconosce dal suo frutto Non si raccolgono fichi dagli spini Ne si vendemmia uva da un rovo L'uomo buono Dal buon tesoro del suo cuore Trae fuori il bene L'uomo cattivo Dal suo cattivo tesoro Trae fuori il male La sua bocca infatti esprime Ciò che dal cuore sovrabbonda Perché mi invocate Signore e signore E non fate quello che dico Chiunque viene a me Ascolta le mie parole Le mette in pratica Vi mostrerò A chi è simile È simile a un uomo Che costruendo una casa Ha scavato molto profondo E ha posto le fondamenta Sulla roccia Venuta da piena Il fiume investì Quella casa Ma non riuscì a smuoverla Perché era costruita bene Chi invece ascolta E non mette in pratica È simile a un uomo Che ha costruito Una casa sulla terra Senza fondamenta Il fiume la investì E subito crollò E la distruzione Di quella casa Fu grande Questo è il Vangelo Di Luca Dicevo capitolo sesto Versetti da 43 a 49 Riecheggia Anche il Vangelo di Matteo Pensiamo al discorso Al discorso della montagna Che si conclude proprio Con un linguaggio simile A quello che abbiamo ascoltato L'immagine Dell'uomo che costruisce La casa sulla roccia E dell'uomo che costruisce La casa Sulla terra Per dire Appunto Chi ascolta veramente La parola del Signore È l'uomo che costruisce Sulla roccia Mentre chi non ascolta La parola del Signore Costruisce Sulla sabbia Ma volevo fermarmi Molto rapidamente Sulla parte iniziale Del Vangelo Perché Mi pare molto efficace Questo riferimento L'albero buono Che dà frutti buoni L'albero cattivo Che dà frutti cattivi L'uomo buono Dal suo tesoro Dal tesoro del suo cuore Trae fuori il bene Mentre l'uomo cattivo Dal suo cattivo tesoro Vorrebbe da dire Tra parentesi Dal cattivo tesoro Del suo cattivo cuore Trae fuori il male Ecco Mi sembrano parole Molto interessanti Queste Perché Ci invitano Secondo me A lavorare Sul nostro cuore Nella misura in cui Il nostro cuore è buono Allora sapremo anche Trarre fuori Qualche cosa di prezioso Di buono per gli altri Se il nostro cuore La nostra coscienza Il nostro modo di vedere Il mondo è cattivo Allora anche quello Che noi tireremo fuori Sarà cattivo In termini di parole Di linguaggio In termini di scelte Di decisioni E di pensieri Potremmo anche Rileggerla così Nella misura in cui Noi riusciamo A riconciliare Il nostro cuore Ad avere un cuore buono In questo senso Cioè un cuore Che è riconciliato Con se stesso Una persona Che è riconciliata Con se stessa Con gli altri Che è in pace Con Dio Ha un cuore buono Cioè è capace Di amore Di vedere in modo positivo Gli altri E quindi necessariamente Quasi verrebbe da dire Come gli alberi buoni Danno frutti buoni Così anche da questo cuore buono Verranno fuori cose buone Ecco se noi invece Non facciamo nulla Per riconciliare Bonificare Purificare Il nostro cuore Questo appunto Potrà molto facilmente Produrre parole Pensieri Azioni Che non vanno Nella direzione giusta Quindi potremmo Cogliere questa Parola del Vangelo Di oggi Come un invito A essere vigilanti Sul nostro cuore E sulla qualità Del nostro cuore Nella misura in cui Sarà un cuore Riconciliato E buono Anche i nostri pensieri Parole Le azioni Andranno verso Qualche cosa di buono Per il bene nostro E per il bene anche Delle persone Che ci stanno vicini Ecco allora Come preghiera per oggi Il piccolo impegno Che potremmo cercare Di avviare Potrebbe essere Proprio questo Vigilo oggi Sulla realtà Sulla qualità Del mio cuore E lo aiuto A riconciliarsi Perché così Possa anche Esprimere Pensieri Parole E opere Buone Per me E per gli altri O Dio Che hai dato Al tuo popolo I santi Cornelio E Cipriano Pastori generosi E martiri Intrepidi Per loro Intercessione Rendici Perseveranti E forti Nella fede E fa che operiamo Assiduamente Per l'unità Della chiesa E su tutti noi La benedizione Di Dio Il Signore Si è sopra di te Per proteggerti Davanti a te Per guidarti Dietro di te Per custodirti Dentro di te Per benedirti Nel nome Del Padre Del Figlio E dello Spirito Santo Vi ringrazio Dell'ascolto Di questi giorni Che abbiamo trascorso Insieme Con oggi Finisce La mia settimana Di riflessione Di commento Della parola Di Dio del giorno Da lunedì prossimo Tornerà Don Martino Vi ringrazio ancora E a risentirci In altre occasioni In altre puntate Della nostra rubrica Un carissimo saluto Da Don Alessio Magoga De Lazione Di Dio del giorno